Quando il gioco si fa duro, i due cominciano a giocare. Scendi in campo! Tony Tubo regna! Ti servono crediti, non sai dove acquistarli? Tony Tubo può aiutarti. FIFA coin.com E col codice Tony risparmirai anche un 5% sul tuo acquisto. Link in descrizione. Ciao ragazzi, sono Tony Tubo e oggi siamo qui perché è tornata la sfida delle sfide, i 100 player pick 81+. Video che vi è sempre piaciuto, quindi mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti ma andiamo subito dentro con le 100 pick. Prima di iniziare il video però ragazzi, se vi piace la tuta che indosso e volete saperne di più per acquistarla vi lascio allo sponsor del video, dura giusto 30 secondi quindi guardatelo. Questo ragazzi è calciamento21.it, potete trovare il link in descrizione. È un sito che vende delle maglie che vengono spedite dall'Asia, quindi sono magliette originali però spedite dall'Asia quindi per il mercato asiatico. Queste maglie per arrivare ci mettono dai 15 ai 20 giorni perché comunque devono fare un giro enorme tra Asia, Dubai, Germania per girare tutte le frontiere e poi arrivare in Italia. Aggiungete tutte le maglie che volete al carrello, maglie e tute, c'è di tutto ragazzi. Potete addirittura ragazzi scegliere le taglie e ovviamente personalizzarle. Al momento ragazzi che avete completato il carrello, se superate 130 euro avete la spedizione gratuita, vi uscirà, vedete la spedizione, vi consiglio di scegliere la DHL, vi uscirà 0 euro, selezionatela. Come metodo di pagamento potete utilizzare sia la realtà di credito che Paypal per stare ancora più tranquilli. Nel momento in cui comprate ragazzi ricordatevi di inserire nella casella il buono sconto Tony, così riceverete uno sconto sul prezzo totale, eccolo qui. E poi ragazzi confermate l'ordine, provate il link in descrizione, passateci. Bene ragazzi siamo qui con 50 player pick, purtroppo più di 50 non ne potevo mettere, quindi iniziamo con questi 50 pick e poi ne facciamo altri 50. Partiamo subito, prima player pick. Chi ben comincia è a metà dell'opera. E non è il nostro caso. Va bene, seconda pick. Di di 84, gli 84 costano, quindi è buono la degli 84, ok? Fernandinho, momodo, cross, base, e ora chi prenderò? E fu così che Tony decise di chiedere il parere a Instagram. Cosa, chi devo prendere tra cross, Fernandinho, Ederson no, però tra cross e Fernandinho? Chi prendo? Misel! Bene ragazzi, su Instagram hanno scelto di poco cross, quindi prendiamo cross per l'opera. Allora, come on, come on. Uhhh! Nahi, 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 naha, nahi, nahi, nahi. Nah, nahi, 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 90 terzehehane. Bono per l'SBC ovviamente Aionetto sugo pensavo già alla pomodoro Altome Workout portoghese Bernardo Silva Va bene Eeeh Skriniar Godin E Salvatore Sirigu No, prendiamo il difensore centrale della squadra campione d'Italia Dai, applausi Vamos Bello, Luiz Alberto della Lanzi Un saluto a Luiz Alberto Prendiamo un altro 85, minimo 87 Un altro 85 Rodri Dai, finalmente arrivi un gol club di 85 Adesso direi che è arrivato il momento di fare un futto compleanno E' sempre verde il mio 126esimo Sergio Buschè Abbiamo altre due pagine ancora Fammi un vape Raja Vabbè, prendiamo alcuna matata perché controlli tubo è una splendida giornata Non c'è possibile Perisic Taran tante Perisic Forza inda Forza inda Grandissimo Perisic 5 stelle skill 5 piede debole How much this man 300.000 che ha tutto il burde Back to back, voglio un altro foot compleanno Back to back Ciao Non ci credo Non ci credo il back to back Il back to back A magia Giardino Frate Bruce Lee Oddio Ragazzi Non c'è due senza tre Non c'è due senza tre Non c'è due Ultima pic della pagina Marco Salonzo Guida e non fare lo stronzo Ultima pagina di pic ragazzi Olè Lascia stare Lascia stare Non ti arrabbiare Tutti i doppioni, tutti i double Tutti i double Teoricamente Valore commerciale Un po' di più li fotta da 4 Vabbè prenderò il valore commerciale Per questa volta vado sul commerciale Ok Ultima picca Arutto Sassic Noi stu Bella rabbia saudita Bene ragazzi Abbiamo aperto le prime 50 pic Che dire Abbiamo trovato due foot birthday Tanti walk out come Busquet Bernardo Silva Cross Tersegen Certo anche un po' di doppioni Mannaggia la marina militare bulgara Però Tutto sommato Non ci è andata per niente male Adesso Andiamo a fare altri 50 pic E ci rivediamo Subito Ragazzi Ma ci siamo dimenticati una cosa importantissima C'è i due giocatori 86 e più E che fai? Te ne privi? Ma certo che no Andiamo ad aprire insieme Vamos Portogallo a TT Portogallo a TT Un walk out garantito Portogallo a TT O Black O Andanovic Andanovic Che sfiga Andanovic 88 Significa che è quello sotto O è un altro 88 Nella migliore delle ipotesi Oppure è più basso Vabbè Vabbè Ed eccoci qua ragazzi Con altri 50 player pic Carichi carichi da aprire Vamos Cominciamo Col botto Con un gran Fabiano Ruiz Così Cioè escono le stesse player pic di prima Invece no esce Gulasky 85 Prima pagina Orribile Neanche un walk out Vogliamo un po' di carburante in più Mariamoso Perché sono contentissimo Perché ce l'ho scambiabile Quindi Non prendo lo scambiabile Già mi ci trovo da dio in difesa In più lo prendo Non scambiabile Mi vendo quello scambiabile E abbiamo fatto 150k Belli belli Now 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 Quanto costa Mario Hermoso Uh 180 180 Quindi sarà un piacere Dopo venderlo ragazzi Dai Ultima pic di pagina Sì ecco 85 E vabbè Siamo andati bene con Mario Hermoso Andiamo alla terza pagina Abbiamo altre due pagine ancora Dai Il pepita 36 Immobile come lui Cioè non c'è mai che è scambiabile del mondo Però poi Pianic Il grande Pianic Per gli amici Pj Dai Pj Dai Pj Uuuuuh Che bello Finalmente abbiamo trovato un walkout naturale Ovvero Henderson Ci sarebbe il doppione del portiere Ma chissù No Quindi prendiamo Henderson 86 Da fammi Nguain Insomma Prendiamo Tony Gross doppione Che vuoi fa L'abbiamo trovato prima Lo ritroviamo Uuuuuh Carvajal Sei bello Carvajal Ultima pic di pagina Eee Le copole di Carvajal Ultima pagina ragazzi Dai Ah come on Ne ha fallo Non Cristiano Uuuuuh Bala Dai Uuuuuh Mark Diello Rashford Marcus Rashford ragazzi Eee E' accettabile Per me In questi ultimi 5 pick Un altro walkout E' solo contento Basta Non è walkout Però Ultima player pick Eee Che fa Si resta Sulla Sulla Ok Allora Ricapitando Ragazzi Abbiamo trovato Un Paolo Dybala Come walkout Henderson Nulla di che Però abbiamo trovato Questo Mario Hermoso Che è tanta tanta roba Soprattutto perché Vedete E' switchabile E scambiabile Quello che ho io Poi Abbiamo un sacco Di doppioni buoni Bene ragazzi Per questo video è tutto Se il video vi è piaciuto Vi ricordo di iscrivervi al canale Lasciare un like E attivare la campanella Noi ci vediamo In live streaming Tutti i lunedì Mercoledì Venerdì Alle ore 20 e 30 Qui su YouTube Su questo canale Quindi mi raccomando Iscrivetevi E attivate la campanella Da Youtube è tutto Noi ci rimettiamo Al prossimo video Bella ragazzi Primorchio una tipa E glielo esco al bar Mi gusta chavar Che la bucchina è manca È un'altra tipa Che la bucchina è manca